La prossima saluta che facciamo, siccome un crimine cittò, ci vuole un po' che ci potesse e poi ci stavano un mandamento, siamo a pupare, però ti dico che non già si è chiusa, sia palazzo, sia frantissima, tutti vanno a toccare semmo, vanno a toccare, ora nel 2015, dopo 25 anni, ne esce più andate, che sarà più grande. Siamo succedendo, sono succedendo qui, è tutto, è un luogo, perché se c'è un soldi, ho anche un gioco, è stato molto succederebbe. La prossima saluta Adete, è il mammo di coraggio, andiamo a fare questa faccina, c'è un discurso. Come ho tratto un tuo cancello non va a scappare? No, non è un cancello, perché ci vuole uno... Che che lo cancello, subito? Dove vengono, perché lo fermino con quattro petri? Come tu uscino, io faccio la festa, subito, io li prendo i scarpe, magari è un cane, e due andiamo in delta, e si è che ho, E' vicino sempre Devo usare i soldi per l'asta E poi mi hanno usato i soldi per il tuo figlio di Totò Reigno Io ci ho detto una cosa Io, saggio Capicino Ha fatto un dovere per il suo progetto Un figlio di Totò Un do Abbiamo avuto a trovare il suo destino Ma era Prima da qua Un centro per la camera di Palazzo Poi non pensi suono, poi abbiamo messo il nostro obliance Un colpo E' vicino Non pensi suono La mia torre è andata E' un'altra, in una setta I avuto un'altra E' un'altra cosa che diceva E' un'altra cosa che diceva E' un'altra cosa che diceva Ma normalmente non pensi sei Ma non pensi, ci si rinuneremo Ma non pensi ci quando pensi Non pensi ci sono Un'altra cosa che diceva Grazie.